...tipo di morte sotto un tram. Non le piace neppure questa? Ma mi sembra terribile. Va bene, ne abbiamo un'altra. Eccola signora, un'altra. Aveva un occhio di vetro... Ma fa' un c***o. Ma... ma se è il c***o che l'ha detto, cioè... Aveva un occhio di vetro... Ma fa' un c***o. Aveva un occhio di vetro... Ma fa' un c***o. Aveva un occhio di vetro... Ma fa' un c***o. Aveva un occhio di vetro... Ma fa' un c***o. Aveva un occhio di vetro... Ma fa' un c***o. Aveva un occhio di vetro... Ma fa' un c***o. Aveva un occhio di vetro... Ma fa' un c***o. Aveva un occhio di vetro... Ma fa' un c***o. Aveva un occhio di vetro... Ma fa' un c***o. Aveva un occhio di vetro... Aveva un occhio di vetro 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 Aveva un occhio di vetro